Mister, in queste partite il risultato conta poco, conta più il fatto di aver visto progressi da parte della squadra pur con delle assenze importanti. Sì, queste partite ci fanno bene perché giochi con squadre di categoria superiore, te la giochi alla pari, abbiamo fatto sicuramente un passo in avanti in confronto all'ultima amichevole, sono molto contento perché in queste partite magari c'è qualche ragazzo che ancora non conosci bene, vedi quello che ti può dare, sono contento perché ho avuto delle risposte positive da parte di tutti, soprattutto a livello di gioco della squadra, comincio a capire i meccanismi, comincio a stare in campo come voglio io e a fare le cose che sa fare. Poi quando arriveranno anche, quando saranno bene anche quei giocatori che per noi sono sicuramente importanti perché ci danno tanta qualità, vedremo di fare ancora meglio. Non a caso avete scelto di confrontarvi contro avversari comunque di valore, Giulianova, poi ci sarà anche l'amica Eole Colchietti. Sì, io dico quello che dico sempre ai ragazzi, al di là dell'avversario, noi dobbiamo andare in campo, provare a fare le nostre cose perché poi se riusciamo a farle anche con le squadre di questa categoria, con quelle della nostra, sicuramente ci vengono ancora meglio.